Nel settecentesco Palazzo d'Esterlich, al centro di Castilenti, una degustazione di annate storiche dell'azienda San Lorenzo ha dimostrato quanto non solo il Montepulciano, che ce lo aspettavamo, ma anche il Pecorino, ha una predisposizione all'inmecchiamento straordinaria. Sì, infatti abbiamo voluto farvi assaggiare e farvi fare questa esperienza proprio sul Pecorino, perché sul colline Tramane-Montepulciano sicuramente avevamo più esperienza, sul Pecorino, ecco, assaggiare una 2015 ancora in perfetto stato con un'evoluzione ancora molto importante, poteva un po' darvi una chiave di lettura maggiore di quello che è San Lorenzo e di quello che facciamo tutti i giorni. È emerso che la parola d'ordine deve essere pazienza, ma la devono mettere in ugual misura produttori, ristoratori e consumatori. Questa è una minaccia? Che cosa è? È un'esortazione. Sicuramente la pazienza per noi è una parola importantissima, perché come vedete qui il vino deve riposare per diventare grande, e perciò dobbiamo avere molta pazienza. La pazienza è a virtù dei forti e perciò ne facciamo tesoro, è fondamentale. È fondamentale, qui l'abbiamo visto, abbiamo assaggiato del 2008, abbiamo assaggiato un 2015 la nostra riserva del fondatore, perciò con il tempo sicuramente il vino matura e riusciamo a tirare fuori dei prodotti eccezionali. E però è un impegno, un impegno per il produttore che deve aspettare a venderlo, è un impegno per il ristoratore che magari deve dare profondità alla sua cantina e serve sensibilità anche da parte del consumatore, perciò dicevo che l'impegno deve essere su più fronti. Sì, sì, l'impegno deve essere su più fronti, infatti ne parlavamo oggi. Noi esortiamo a questo impegno la pazienza all'investimento, però indubbiamente è importante far passare questo messaggio. L'impegno che noi mettiamo è tanto, l'impegno deve essere messo proprio anche dal ristoratore che deve formare i suoi clienti, il consumatore deve fare la sua parte, ma come la deve fare la sua parte? Ascoltando, degustando, venire qui a fare degustazioni, andare nei ristoranti e chiedere consigli, chiedere più possibile, parlare, perché solo così si riesce a fare conoscenza e si riesce a fare un po' quello che noi parliamo, quello che diciamo sempre, la cultura sul vino. C'è una novità in casa San Lorenzo, infine, perché si sta sperimentando l'anfora. Sì, è vero. Abbiamo da un po' di anni fatta questa esperienza, abbiamo iniziato a farlo sul Montepulciano, pensiamo che comunque ci possano essere buone opportunità anche per vini bianchi, come il Trebbiano, e perciò è tutta una cosa ancora in itinere che stiamo sviluppando, progettando, sicuramente usciremo con qualcosa, questo è sicuro. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi, grazie per la venuta.